Allora, i bagni di qua, di qua, di qua, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, ecco anche qui mancano le protezioni per l'acqua, le scatolette, anche questo tubo qui, le avevano fatte, le avevano fatte in grande stile perché erano le docce praticamente qua, quando le avevano fatte al tempo, si vede che la pensavano come una palestra per le docce, avevano fatto addirittura sia di qua che di là, non sono più usate le docce, le scuole si guardano le scuole, le scuole si guardano le scuole, le scuole si guardano le scuole, le scuole si usa, ah non viene usato perché, non c'è le docce, non lo sa più questo andrà anche a vedere quella no, non c'era pronto? ciao ciao no, 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 c'è bisogno no, perché adesso, adesso sono, adesso, no, l'ho mandato a padre Carlo, per il discorso del docce, adesso sono qui alla propria pesante, ci sono le varie prese rotte, si, si no, no, sono belle le prese rotte di qua no, questo c'è deve mettere anche dei dappi qua perché sono proprio interventi minimi si spogliano questo finanziariamente è meglio avere il vero bolle che la scuola bucola, no? beh, no, c'è il vero bolle io l'avevo scuola non è scuola non è scuola, eh? ma non dovremmo si, si, tanto non credo che sa non credo che sia un'ottima una ilianca di volante è un'ottima vizia non è l'ottima c'è una società che non c'è una società che pulisca eh questo è un tubito dei caloriferi penso oh no, sono tre cos'è l'autolavaggio eh, cos'è che hanno lì? non lo so ci vuole l'enzo eh, c'è da mettere i vari tappi qui questi cosa, quelli da cosa sono? Antonio, che diavolo è stato? eh sarà un termostato forse? no? sì quindi quando sente che scendono i vari gradi fa partire fa partire i radiatori che sono qua la finestra deve stare in quel modo o è rotta? le finestre la grande maggioranza sono rotte eh, sono rotte quindi ci mangono così capito? capito? non chiede anche questa qua questo cos'è? il bagno maschile? il bagno maschile? quindi questa è caduta invece? eh scardinale eh sì, deve essere caduta eh sì, gli hanno sostituito